Siamo con Michelangelo Mucilli, responsabile della scuola di musica Il Pentagramma, che questo fine settimana presenterà il suo saggio finale con le sue decine di ragazzi studenti di musica. Una scuola che ormai è diventata un'istituzione a San Salvo, formata da insegnanti sansalvesi, maestri di musica, che negli anni si sono formati nella nostra città e che sta seminando molto bene. Michelangelo, allora l'appuntamento per quando? Allora l'appuntamento è per sabato 17 giugno presso la villa comunale vicino la Fontana di Vetro. Vi aspettiamo tutti, insomma sarà un saggio concerto più incentrato sulla musica pop, quindi per i bambini, per instradarli per il futuro come professionisti, come insegnanti, come musicisti in generale. E a che ora Michelangelo? Allora partirà dalle ore 18. Quanti ragazzi saranno impegnati in questo saggio? Allora gli allievi in generale, noi siamo arrivati dopo 4 anni, una cinquantina di allievi, i bambini saranno una trentina circa. Michelangelo, tu sei musicista e punti ad insegnare anche la musica. Quanto può essere importante per la formazione di un bambino la musica? Allora io direi che è fondamentale la musica, semplicemente perché la musica racchiude tutto, racchiude tutto quello che i bambini comunque fanno a scuola, quindi la musica può essere una formazione di vita. Impartisci anche una certa disciplina mentale? Sì, una disciplina mentale perché amplia le conoscenze in generale. Tanti gli strumenti che insegnate alla Scuola di Musica e Pentagramma e tanti anche gli insegnanti, giovani musicisti san salvesi, che oltre ad essere professionisti prestano la loro bravura anche ad insegnare. Quanto è importante per un musicista affermato continuare ad avere il contatto con giovani menti? Allora è molto importante perché è come se uno ci si ferma un attimo a pensare, si trasmette quello che si è imparato fino ad adesso, anche ai bambini si rifà, è come se noi rifacciamo il punto della situazione musicale, cioè ci ristudiamo noi stessi, diciamo, è quello che voglio fare con i ragazzi, applicare quello che facciamo noi e trasmetterlo direttamente a loro, quindi comunque per aiutarli, per incentivarli in questo cammino, che poi sarà il cammino comunque della loro vita, che poi qualsiasi scelta loro faranno, comunque li sarà rimasto, per me l'importante è che gli rimanga qualcosa di bello dopo che sono entrati in questa scuola, diciamo. Michelangelo, l'appuntamento ricordaci quando sarà? Allora ricordiamo sabato 17 giugno alle ore 18 presso la villa comunale vicino alla Fontana di Vetro. Grazie ancora. Grazie a voi. Grazie a voi.